parliamo a questo punto di un appuntamento per gli sportivi non siamo credibili ma si parla di sì si parla di sci naturalmente allora in trentino sull'alpe di siusi si ripete ormai da dieci anni e si chiama moonlight classic ed è una gara di sci di fondo notturna che si appunto alla luce delle fiaccole l'appuntamento è per il 22 gennaio ci possono partecipare tutti basta iscriversi al sito oppure anche sul posto ma devi andare per forza con gli sci cioè secondo te se è una gara di sci di fondo con cosa ci puoi andare ecco i cingoli ma con una slittina ma cosa slittina ma se non c'è il pendio va beh ripeto il 22 gennaio possono partecipare tutti è questo intorno importante non è però una gara solo per amatori ecco ci sono anche i campioni è questo importante ma si può scegliere il percorso o quello da 15 chilometri oppure quello da 30 da due non c'è volendo però bellissimo bellissimo e c'è anche un'altra cosa appunto questo moonlight classica no e dobbiamo pensare che questo altopiano è un altopiano enorme l'albe di siusi è grande quanto 8000 campi da calcio questo non so chi è che la che l'ha misurato però insomma è veramente una cosa stupenda e poi durante la gara c'è la musica c'è il rinfresco ci si ferma si mangia perché tutte queste gare si fanno anche tutte queste attività si fa anche perché poi alla fine si mangia